Nome, cognome, numero di matricola, università di appartenenza, tutto sotto un'unica dicitura, studente della Toscana. Questo quanto riportato sulla carta unica regionale dello studente universitario, nata da un protocollo di intesa tra Regione, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Università di Firenze, Siena, Pisa e Università per stranieri di Siena. La tessera magnetica, presentata ufficialmente nella sede della Presidenza regionale della Toscana a Firenze, sarà in distribuzione entro l'inizio dell'anno accademico 2018-2019 e consentirà di accedere in qualsiasi Ateneo Toscano, indipendentemente da quello di appartenenza, ai servizi del diritto allo studio, come mensa e biblioteche, ma la prospettiva è già di ampliare presto il ventaglio dei servizi. Per ora, ed è già un gran successo, sarà possibile per esempio a uno studente iscritto all'Università di Siena, non solo andare a mensa a Siena, ma andare a mensa a Pisa, presentando semplicemente questo semplice testerino, sarà possibile ugualmente andare all'interno del sistema bibliotecario. Stiamo lavorando però per incrementare i servizi presenti all'interno della carta e pensiamo soprattutto al tema dei trasporti e al tema dell'accesso alla cultura. La carta unica regionale dello studente, ha spiegato la vicepresidente Barni, è uno dei 25 punti del mandato del presidente Rossi e potrà anche essere ricaricata e utilizzata come borsellino elettronico. La previsione al momento è di emetterne almeno 112.000 in tutti gli Atenei Toscani. La carta servirà agli studenti toscani, servirà agli altri studenti italiani, e sono moltissimi che decidono di venire a studiare in Toscana, servirà agli studenti stranieri perché appunto saranno meno confusi fra le università e potranno godere appunto dei servizi in tutta la Toscana. All'orizzonte c'è già l'idea di estendere la carta anche agli studenti delle altre istituzioni universitarie e regionali che ancora non fanno parte del protocollo d'intesa. In quel caso il numero di tessere da emettere salirà a 120.000.